Mi sembra di capire che se lei non avesse il trasferimento all'estero non si sarebbe mai liberato? No, questa auto qua probabilmente la tenevo almeno altri dieci anni perché sono sicuro che un motore del genere dura almeno 200 mila chilometri. La macchina mi piace, si vede che non è una macchina qualsiasi, una macchina con 58 mila chilometri, è introvabile. Peccato che abbiamo un'auto italiana che va all'estero, dove va in Italia? Io abito a Londra, sono già residente a Londra da due anni. La cosa più bella di questa macchina sono 58 mila chilometri. Abbiamo un tagliato 10 mila che è stato fatto per sicurezza per allungare la vita dell'auto, quindi ho cambiato l'olio a 10 mila. Il secondo? Poi il secondo 20 mila e il terzo 40 mila. Quindi ogni 20 mila chilometri c'è la montazione programmata. Poi da 40 mila non abbiamo più documentazione Alta Romeo perché? Perché l'auto è stata usata pochissimo a causa dei miei impegni di lavoro che mi vedevano sempre in viaggio in Italia o all'estero e poi a causa del mio trasferimento definitivo all'estero. Quindi adesso la macchina era la casa? La macchina era in casa, in box. Se non avevo 60 anni andavo anch'io a Londra. La macchina era in casa. La macchina era in casa.